Situazione complessa in casa Taranto, ma secondo Mattia Del Favero nulla è ancora perduto. Il portiere Ionico, ospita della trasmissione Rosso-Blu in diretta su Teleregione, è sicuro la squadra è sulla strada giusta. Sorrento è stato uguale, paradossalmente, te lo vengo a dire, dopo due gol subiti, però insomma abbiamo visto che gol sono stati, non ci sono stati altri grossi pericoli, a differenza magari delle prime giornate, dove invece più spesso arrivavano gli avversari in aria, alla conclusione o a creare pericoli. Quindi credo che sicuramente per la nostra fiducia sia un piccolo passo avanti, ma come hai detto te può essere solamente un piccolo, perché ancora sicuramente ci manca tanto, ma credo che comunque io sono una persona molto positiva e siamo sulla strada giusta. Deprimente ultimo posto, il segreto per Del Favero è non guardare più di tanto la classifica né viverla come un incubo. Io credo che sia ancora troppo presto per poter analizzare questa classifica, per quanto mi riguarda la guarderei solo come voglia in più per tirarmi fuori da tirarci, in modo personale a guardarla, per tirarci fuori da quell'ultima posizione, per il resto credo che ancora valga poco. In Combe, il derby di Foggia per Del Favero non è uno scontro diretto, ma una sfida da vincere a ogni costo. È una partita che va giocata con spirito di sacrificio, con voglia di ottenere la vittoria. Dobbiamo avere in testa come unico obiettivo quello per il discorso di uscire da quella posizione, ma anche per un discorso di fiducia nostra. Quindi non dobbiamo né fare l'errore di credere che sia la partita più importante dell'anno, né di sottovalutarla, ma di giocarla al massimo nelle nostre possibilità. Grazie. Grazie. Grazie.